forse abbiamo indominato la retta via però stiamo zitti se non ci portiamo praticamente male pure da soli la cosa fondamentale è che dopo questa partita partirà naturalmente il mercato e quindi possiamo possiamo proveremo cercheremo vediamo di trovare fondamentalmente un vecchio di esperienza che in grado in grado che ci dia quella giusta lasciamo vedere la cosa fondamentale che mi avete chiesto è quella di trasformare nel vivaio il nostro martinelli perché qualcuno di voi mi ha detto guarda che come tiro giustamente fa schifo non è che ci avete praticamente tutti i torti però l'unico valore che potrebbe posizione in attacco potenza tiro sono in pratica i valori un po più alti ecco c'è una buona elevazione quindi magari potrebbe essere controllo pava cioè sono i valori più alti che ha quindi io non saprei perché in pratica se lo facessimo diventare terzino destro potrebbe migliorare intercettazione resistenza migliorerebbe ancora di più problema è che a difesa è basso cioè c'è 53 non c'ha un buon tiro e magari invece poi aumenta e diventa è questo il motivo per cui io lo volevo lasciare attaccante perché velocità 72 potrebbe arrivare anche era rivela tipo 80 non so quanto potrebbe arrivare però con questi c'è in pratica questo rimane più alti i valori più alti sono in posizione potenza di tiro 66 e quindi più nei rigori 41 vabbò però in pratica e altro sono abbastanza bassa e lo c'è 72 c'è elevazione sono questioni di forza aggressività è molto aggressivo però è quindi non lo so attaccante mobile secondo me è meglio lasciarlo così come attaccante anche perché quante alto un metro e 70 ma dove un puffo no vabbè allora come cambiano le cose lo faccio diventare un terzino persino destro sì perché non ci abbiamo copertura dall'altra parte ha giudicato diventa persino destro magari se sbagliamo vediamo che cosa succede allora andiamo avanti vediamo di fare una buona a partita ho fatto riposare parecchie persone a parte a martinelli l'altro martinelli naturalmente spence era qui fare quest'altra partita con elett da quest'altra parte facciamo giocare a musi dai che sta giocando bene nemmeno ce lo potremmo portare secondo me e me lo porto lo faccio giocare qua a posto di turrientes probabilmente facciamo qualche canno dai 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 che sfrattiamo a qualcuno la vala di ok è buona è buona aspetta mi aspetta mi aspetta ah ma che ha fatto che ha fatto uuuh guala è ripresa madonna santa potremmo andare anche e vabbè però scusate è la cena trattenuta secondo me ma non vorrei essere antipatico oh vai patino mannaccia patino donna santa ok è buona è buona secondo me ci caccia occhio patino e buona perché così fo porca di quella miseria maledetta ma che piccolo totale nessuno rischia nessuno vuole sfruttarsi attenzione qui piacciono in area intervento d'applausi del portiere madonna portiere cacca che fatto ma che fatto il portiere al tiro era centale secondo me si è pato ha detto pure ha detto oh palla in faccia ha patato c'è vedi una perciò si deve incavare tremendamente stiamo giocando ci manca soltanto al giudo ci manca ma a noi però non lo veramente l'ha parato perché branco io non lo so sempre ste pallette così no meno male meno male sempre palle lente mi da spensa ma che ci fai là io non lo so una bello 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 bravo comunque ormai musi ha trovato la tua posizione secondo me secondo me sta diventando sempre di più una tt fate visto quanto 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 è riuscito a prendere il tempo guarda lì questo non era un passaggio in profondità è sbagliato secondo me mi ha un po spazio spiazzato allora io io vorrei capire una cosa ma tu che stai là al centro perché ti sposti io non lo so c'è il centrale che sta lì ci va pure quell'altro perché scala c'è tutto lo spazio guarda perché perché devi andare di là io non lo so babbo l'abbiamo dato è nostra andiamo c'è andiamo c'è e dagliela è fuori gioco rigore ma comunque ci ha messo tre quarti d'ora abbiamo sprecato un'altra parte il problema è secondo me ce l'abbiamo avuto nel nel primo tempo dovevamo segnare il primo tempo quando ho visto che lo insegnavamo avevo già capito che sarebbe stato difficile vabbè andiamo avanti che è successo uff madonna quante cose allora reso conto mensile scuola primavera va bene gli altri rapporti giocatori per questo mese allora incominciamo questo da buttiamo orlando pure bruno madonna bruno che gatti no ci vuole qualcuno di poter valente 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 79 mamma mia allora c'è questo palmieri e valente un metro e 70 numero 65 mamma no basta c'è basta nani basta non voglio più bassi c'è tutti i giocatori bassi via questo sembra terzino oh è nala questo fammi vedere che valori c'ha dribbling precisione di testa e questa è nala secondo me vabbè c'ha 15 anni quindi rifiuto questo ingaggio questo valente e poi è quello praticamente un po più alto 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 proprio però e giustamente valente è arretrata ma è arretrata meno questo piano di crescita potrei farlo diventare un terzino sinistro ma assolutamente perché c'è la finalizzazione 32 posizione attacco 25 porca miseria vabbè sì perché cdc no è troppo basso secondo me 14 settimane 100 grampi sono 88 sì lo faccio diventare un terzino sinistro dai è anche 62 questo secondo me già questi possono già giocare va bene così dai lo faccio diventare un terzino sinistro tiro 40 c'ha mamma mia cioè questo non arriverà mai praticamente no 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 difensore centrale no perché non è che non sei Fabio Cannavaro e non credo ah vuoi qua ma gli asci ha lasciato va bene anche questo ha lasciato va bene il mercato è aperto e lo so quindi vuol dire che forse ci stanzieranno un milione e diciannove non è che ci abbiamo tanto eh però veramente ci abbiamo robetta io continuo a non capire sto fatto di dispense una settimana quindi vedi ok forse una settimana dovrebbe crescere nomitario qualsiasi ruolo abbiamo detto no tutti no non ci serve sto difensore ok quindi qua non c'è nessuno allora io se non mi sbaglio non avevo segnato uno eccolo qua il corso non sembra male però secondo me è forte quindi c'ha pure 29 anni è cinese non so quanto possa essere ma secondo me questo questo difficilmente però è vincolato quindi lo potremmo però prendere ma non so nel frattempo questo che è svincolato quello potrebbe anche venire andiamo a fare una ricerca e ne vorrei prendere qualcuno sui 32 giusto per tenerlo un paio di anni più o meno e poi vedere chi ci esce qualcuno di famosa c'è no ci sta ci sta questo a me ha 39 anni vabbè ne esageriamo non so chi sia sinceramente ma 82 perché ahimà 38 anni no ma questi però non ci buttiamo sul campionato sugli arabi perché secondo me 80 eh sì magari almebac aldred avaro antonaldino ma chi è questo un metro 80 34 anni antonaldino mi ispira al nome però me lo porto 34 anni mi piace il nome Arbilla Aridana qua rega tre cessioni Arribas Haya ma che è questo Ayala Ayala sarebbe bello non è Ayala c'è Daniel Ayala ma non è quello che penso io manco Babà Babà che cos'è Babà me lo ricordo 32 anni svincolato si è svincolato eh 32 anni Babà 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 l'avevamo già preso un metro 97 madonna mia elevazione vorrei pure vedere se non c'è elevazione cioè questo salta da terra cioè senza quanto c'è in difesa di diventare difesa 55 è basso però c'è come sembra elevazione però c'è valori molto alti me lo segno c'è 32 anni neanche poi tanto Babin sembra per gasto l'ava bamba 37 anni che peccato visto Varanovski vale bellucci eh se ti chiamai bellucci ti prendevo benazia addirittura eh ma vabbè ogni tanto non ti posso prendere se è Bigas Bianchi Bitford Boateng addirittura 134 anni questi sono giocatori Bonucci vabbè normale guarda Boxer Breghieri Burtisso parente forse è poco lui ma non credo che sia vabbè Báez Cabrera Cameron Cardoso no questa c'è la faccia comunque per Alecce quello che Cepitelli che è questo Censiao no vabbè basta Chiellini Irigesh Irigesh non sarebbe già nel Sassuro ma non penso che verrebbe però Clark ok fantastico Clark Chiellini va a 2-13 milioni 77 Chiellini addirittura che schifo è sceso tantissimo Clark Congre Constantin come il film wow c'è 38 anni non mi costa Crespo ma se non è parente questo assomiglia 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 a Hernan Crespo porca c'hai 35 anni dove giochi io mi faccio troppo trasportare forse dai dai nomi Cazares D'Ambrosio D'Ambrosio no vabbè D'Ambrosio non ho giocato l'Inter figuriamoci Dai Lin vabbè basta sto scegliendo troppo Danilo vabbè capirai 38 anni 37 35 no De Mayo restiamo sempre su un'età accettabile perché sennò ci pigliano a pacca di tremendamente secondo me comunque io penso che prenderò Donati Donk Ba eppure sono convinto di averlo già preso Ba Enrico Evans io penso di averlo già preso questi sono quelli che abbiamo più o meno scelto diciamo che un po' per età un po' perché è svincolato anche questo è svincolato diciamo questi sono quelli più abbordabili Antonaldino mi spira vi dico la verità molto il nome ma non so quanto vale quindi Gurdisto mi sono fatto trasportare un pochettino dal nome Crespo idem Crespo però per esempio ha 35 anni e secondo me non è il caso però sulla carta secondo me Ba è il migliore secondo me Ba non viene tra l'altro questo addirittura gioca come CDC cioè sulla carta così dovrebbe essere più forte il cinese questo qua 29 anni forse io sono io che sbaglio vabbò vogliamo dire se viene ok già entriamo in trattativa ci dobbiamo imparare anche il nome allora sicuramente uno i cinesi hanno una pelle bellissima proprio importante sì cruciale cioè obiettivamente questo non ha 29 anni questo ha 18 anni accettiamo due anni di contratto bene due anni dai cinesi ignoriamo la clausola va bene lo stipendio questo secondo me vuole un sacco di soldi che viene dalla Cina io gli darei 6 e secondo me poco che dici voleva di meno voleva di meno mannaccia di me molto di meno gli ho dato assai gli ho dato troppo gli ho dato eh sì stringi la mano stringi stringerei io vabbè voglio vedere che cos'è madonna santa sto tremando ben 68 mamma mia vabbè fa niente dai pensavo fosse un po' più forte vi dico la verità c'ha 29 anni pure non crescerà neanche eh sì sì se a me non cresce neanche se gli tagliamo eh lo sapete voi che cosa ottimo lavoro volevo solo ingrazzare perché ho raggiunto uno degli obiettivi ah me l'ero scordato sto obiettivo vabbè dai abbiamo fatto l'obiettivo e siamo almeno è servito a qualcosa cruciale pieno di crescita magari cresce cresce come cresce come l'erba cresce se è come è come se cresce eh cresce cresce assai cresce prossimo acquisto questo atletico mineiro gioca il brasilia 74 anni ma è una bestia l'antonaldino io mi faccio sempre troppo non è in venta data la cassetta alternativa nel suo ruolo ah mannaccia la miseria e vabbè allora lo togliamo ci sta Jay crespo secondo me parente di Hernan Crespo e magari potrebbe non essere male tra l'altro poi un di cinti c'è 35 anni tu la sai pur disso secondo me sulla carta è uguale al cinese quindi è scarsina secondo me c'è pur disso e crespo pur disso c'ha un po' più c'ha un anno in meno c'ha un metro e 89 una bestia ok lo sapevo questo però dovremmo comprare praticamente allora vediamo se difensore centale per difensore centale e ti diamo a Dan vogliono 7,50 e non vogliono Dan e allora aspetta un attimo ricominciamo aperta cartellino facciamo 5,50 6,10 5,30 dai 6,10 ma dopo quanto li schifo quando fanno così facciamo 5,80 ok e vediamo se riusciamo a prenderlo andiamo a trattare questo non gli voglio dare a sale e poi dopo questo facciamo importante per forza che viene a cruciale e vabbè c'ha ragione se no che viene a 2 anni penso che dopo ti ritiri no però non sei uguale alla foto però aspettate un momento ci stanno imbrogliando però e non sei uguale alla foto accettiamo senza caso gli accessori va bene così vuoi un stipendio 1 quanto gli do di stipendio a questo e quello giustamente dice al cinese gli hanno tutti sti soldi e a noi niente ehi si rimane 4 e 8 e c'ha ragione giustamente quello pensa al cinese dice il cinese dai tutti sti soldi a noi no dai speriamo che ci viene un po' incontro ehi non c'è niente non ci viene ma anche incontro un pochettino sulla cosa facciamo 4 e 5 dai e facciamo vediamo un po' niente niente e abbasso soltanto lo stipendio e dai vabbè ok e secondo me più di questo non potevamo fare c'è anche ba io ba me lo terrei così vediamo eventualmente se possiamo fare qualcosa però ba secondo me ah ma non ho visto quant'è aspetta un momento abbiamo preso e non sappiamo 69 vabbè io penso che noi questo ci possiamo permettere più o meno quindi alterneremo un pochettino e vediamo un po' visto che Hancock secondo me è più veloce vedi da lì tiro ci ha deluso un po' Hancock su parecchi punti va buo dai praticamente abbiamo compato più o meno la stessa roba tanto comunque non giocherà mai al posto di quell'altro Spence vediamo un pochettino faremo dei cambi poi vediamo un po' devo un po' valutare tanto Denno l'abbiamo assolutamente perso quindi direi di andare avanti aspetta un attimo aspetta facciamo così allora io direi di dare subito che dite diamo subito eh li facciamo giocare subito dai difensori appena arrivati così riproviamo tatta speriamo che non so scarsi vabbè Stefano ha vinto io farei giocare sempre a Musi sta veramente venendo fuori alla grande sì lasciamolo lì però voglio far giocare a Moretti dai perché Moretti secondo me è forte è più forte di Branco e adesso no è sempre meglio che si riposi un pochetto magari eventualmente facciamo qualche cambio Martieri di Stefano di Stefano si è riposato Patino pure no Turrientes giochiamo così dai poi eventualmente facciamo il cambio mi porto Branco Burrito facciamolo giocare dai speriamo di aver indovinato un po' i difensori un po' non dico assai ma guarda veramente a volte io non ti capisco cioè mi hai messo completamente in difficoltà con quella parola occhio eh ok ottima posizione bella 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 io non so se ha sbagliato il tiro perché oh eh apura ma manchester fotte ma andiamo ma come fa a fare una parola così ma non la manco toccata secondo me è finto poi i difensori grossi sono alti eh che fai non salti abbiamo fatto il cinese cinese dove vai cinese mamma mia maledetto me che mi faccia giocare di prima occhio vabbè ma se segnerà la non è male non è male bello questo è stato un gran bel gol bravo ok bravo di stefano finalmente mamma mia bel tiro d'esterno fatto ok bella bella vi vedo più sistemati o questi sbagliano o siete più sistemati voi portapalla portapalla nc vabbè allora ci inizia dai bang non non so perché occhio speriamo di no speriamo di no ok no 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 dovete uscire recupero recupero un pallone pericoloso qui tentativo ribattuto no lo vede allora che supera linea di fondo ci sarà la rimessa del portiere ok buttato questo è un buon segno ma vediamo se è fortuna o riusciamo naturalmente a mantenere perché per adesso generalmente perdavamo ste partite le perdavamo o le pareggiavamo assolutamente e invece sembra che con questi due difensorini magari che ne so si sono spaventati non lo so dico una fesseria non lo so vabbè ragazzi comunque siamo quindicesimi stiamo un po' più tranquilli la società questa offerta per il terzo elemento di di stefano continua ad arrivare offerte per di stefano ma proprio di stefano sinceramente io non lo do neanche morto ci vediamo al prossimo video vai ciao